Senti Ticocchi, Barcaleno contro Fortitudo, Gioti Borate per Barlieri, fuori gioco, Fortitudo attacca, chiusura difensiva, Paioli per Barlieri e Borate, ferma. Vai dentro, vai dentro, giù, giù, filo basta fare i giochetti però eh, via, dai ancora lì, via Poni, via, per la chiusura di Caglioli, una fai sulla destra affonde e tira fuori, vai Poni, bravo, prova il mano così. Gioci Italia laufen 10 sulla sinistra. Marco, 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 touchiamo la squadra, dai Cosimo. Vieni Ale, vieni, subito, subito, bravo. Lui non devi essere più veloce, però là, più veloce, bravo, veloce, bravo, veloce. Cosimo sveglia! Uno che copre, Manco Veloce. Vai Marco! Lui vi ho rimpallato di Peioli, per poco non ci scappa il gol. Vi è lasciato con Marcello di Naro. Mi fa il progettivo, è parata. Secondo tempo il giro di per Valbero, diceva sulla sinistra. Poi palla a Vallone che si libera di traversali. Si presenta in Naro ma viene anticipato. Ancora Vallone in avanti senza evito. Lui giù sulla destra e sul fondo. Tentativo sul calcio d'angolo, palla a Taglioli, poi Vallone. Vai, vai, piccolo! Vai, vai! Cross di Vigliosi, tentativo di tiro e di Taglioli, parata. Aspetta! Barbero si precipita in avanti e tira, parata. Barbero in avanti, perrette e Vallone non ci arrivano. Barbero, passaggio sulla destra, Didu per Lagazzi, non va. Sulla destra, palla a Bonafè, poi Didu per Vallone, tiro fuori. Terzo tempo, Marcello di Naro in presa alta. Corre la fortitudine sulla sinistra, Marcello di Naro, parata. Bella discesa sulla sinistra di Vallone, dribbling e tiro, parata. Bonafè recupera palla per Migliotti, lancio per Vallone. Il portiere anticipa, tiro di Lagazzi respinto da un difensore, Didu tira, parata. Ma dai, cacchio! Taglioli di testa su angolo, fuori. In finale, la fortitudine si rende più volte pericolosa. I due squadre si sono annullati, il pareggio è giusto. A botta!